Ciao Ciao, sono Ege Allora, sì, guarda, è un problema tuo Io sono una ragazza all'antica, tra virgolette Non sono una che si accontenta, tra virgolette Non sono una che al primo appuntamento si concede, tra virgolette Tu cosa mi dici? A me, basta che facciamo qualche cosa Pure fra un mese, tra parentesi, eh? Ah!